Recap del primo giorno. Franci, ci fai vedere quello che abbiamo comprato il primo giorno, dove siamo andati intanto? Siamo andati ad Achiabara, nei vari negozi come Big Camera, Mandarache e anche qualche negozio che abbiamo trovato lì per strada che vendeva qualcosa che ci piaceva. Io vedo un sacco di cose nello sfondo. Sì. Perché te la tiri di brutto così? Perché c'è quell'opulenza? Perché c'è quell'opulenza? Ci fai vedere? Qualcosa lo vediamo già. Allora, vediamo dei action figure lì per terra, vediamo delle cose carine, vediamo da un po' vicino. Questo qui di Shamsaoman. Ok, poi ne vediamo un altro per terra. Eh sì, questo qui è quello che piaceva a te, Goku, Super Saiyan 4. Molto bello, poi faremo un video dedicato. Sì. Adesso è solo per far vedere velocemente quello che abbiamo preso il primo giorno. Poi abbiamo tutte le cose là sopra, ma le dico io tanto non c'è problema, faccio la ripresa. Allora, qui abbiamo, attenzione, un gioco mi sembra di Olly e Benji. Sì. Ok. Siamo ripetendo più vicino? No. Abbiamo poi i due action figure di Shamsaoman e la motosega. Fra io noto qualcosa da dire. Questo qua? No, qualcosa di grosso. Ci stai appoggiando la mano. Eh, che bomba è questa qua, scusate. Eh, questa è la PlayStation 5. Come mai hai preso la PlayStation 5? Eh, siamo andati da Big Camera e ci è venuta quest'idea. Però adesso devi pagare pegno. Ci canti la canzone, se no non puoi avere la PlayStation 5. Va bene, va bene. Abbiamo avuto il sole, non vogliamo che domani sia brutto. E poi vediamo là dietro un Gengar a cappellino. Sì, il cappellino di Gengar. Ok. E davanti un altro cappellino. Questo qui di Gengar. E lo Snorlax. Ok. Molto bello, molto bello. Ci piace. E dopo questi acquisti, cosa hai preso ancora? Vedo dei giochi qua. Allora, ho preso un po' di giochi. Sì. Come abbiamo Mario Odyssey. Sì. Tutti questi presi da Big Camera sempre. Ok. Poi abbiamo il nuovo Zelda Tears of the Kingdom. Ok. Fit Boxing per te. Ok. Assieme a... Con Kenny il Guerriero, diciamo il nome. Sì. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Quello lì è Kenny il Guerriero. Ken. E il gioco, ve lo faremo vedere poi perché ti ripugni realmente. Poi faremo un video dedicato anche su quello. Poi ho preso Yokey Watch 4, mai uscito in Italia. Ok. Bellissimo. Persona 5. Bello. Royal. Molto bello. E infine, anche questo mai uscito in Italia, il capitolo di Odiata con Titan. Wow. Bellissimo. Ok. Per chiudere, Franci, io direi di prendere quelle bacchette di legno. E qua e qua. E alla messicana faccio una bella chiusura. Poi scoprirete perché. Allora. Intanto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Sì. Iscrivetevi al canallino. Bravo. Bravo Franceschito. E attivate la campanellina. Franceschito, mio amore. Ti mi fai innamorare sempre quando ti parli così. Quello nazionale popolare messicano. E allora, il video è chiuso. Adesso finiamo. È tardi. Stiamo facendo la media di 14.000 passi. Almeno oggi, il primo giorno, 13.000 passi. Vediamo domani. A domani. Ciao. Ciao.